Oggi entriamo in un argomento un po' scivoloso, perché è un argomento veramente complicato e complesso anche proprio da spiegare e da raccontare, però ci proveremo. Infatti oggi parleremo delle fondamentali differenze tra risoluzioni video, aspect ratio, formati video e codec, concetti essenziali per chiunque voglia entrare nel mondo della produzione video e dell'editing, oltre che quindi capirli per noi stessi, è anche utile farli capire al cliente e farli capire come questi agiscono nel video finale. Come è facilmente intuibile, questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme. Quindi se vedete che vi manca qualche nozione, andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante. Torniamo alla spiegazione. La risoluzione video. Che cos'è la risoluzione video? La risoluzione video indica la quantità di pixel presenti in un'immagine. Quando noi sentiamo i termini come HD, 4K, Ultra HD, ci riferiamo alla risoluzione video. Quindi la risoluzione video viene espressa con una misura di pixel orizzontali e verticali. L'HD è 1280x720 pixel. Il Full HD è 1920x1080. Mentre invece il 4K è 3840x2160 pixel. Orizzontali e verticali. Questi numeri quindi ci indicano quanti pixel ci sono in larghezza e in altezza. Maggiore è la risoluzione, maggiore è la qualità dell'immagine. Quindi più alto il numero, più avremo una qualità maggiore. In quanto ci sono più dati visibili. La spectratio invece è il rapporto tra la larghezza e l'altezza in un video. Quindi i formati più comuni includono per esempio il 16 noni. No, l'orizzontale usato per la maggior parte dei televisori. che ha un rapporto tra 1920x1080 oppure 3840x2160 di 16 noni. Poi abbiamo il 4 terzi che era il sistema utilizzato dalle vecchie tv, dai vecchi monitor del computer. 640x480, 4 terzi di rapporto. 1 a 1 utilizzato per i vecchi post di Instagram o comunque un formato quadrato. 1080x1080, 1 a 1. Se invertiamo il rapporto, come nel caso di 916, quindi 1080x1920, otteniamo un video verticale che viene usato nei Reel, TikTok e Instagram e nelle storie. Invertendo i rapporti avremo quindi il 916. Ora invece parliamo di formati video e codec. Il formato video è il contenitore che racchiude tutti i dati del vostro video, inclusi i flussi, audio, i metadati, i sottotitoli. Il codec invece è un dispositivo o un software che codifica e decodifica i dati digitali. Il termine codec deriva appunto dalla combinazione di compressione e decompressione. I codec sono fondamentali nel mondo dell'audio e del video digitale perché consentono di ridurre le dimensioni dei file per le memorizzazioni e la trasmissione, rendendoli quindi più efficienti per il passaggio dei dati. I formati più comuni sono l'MP4, l'AVI, il MOV e l'MKB. Questi formati determinano come i dati sono organizzati e salvati. L'MP4 per esempio è molto utilizzato per la sua compatibilità, quindi va su tutti i dispositivi, ma comunque mantiene una buona qualità. L'AVI invece è un formato più vecchio e più datato, che può supportare vari codec ovviamente. Questa tipologia però è meno efficiente perché ha una compressione scarsa. Poi abbiamo il MOV, il MOV che viene utilizzato soprattutto sui dispositivi Apple perché ne è proprietario. I codec invece più comuni sono l'H264, l'H265 e il ProRes. Il codec H264, noto anche come MPEG-4 ABC, è uno dei più diffusi utilizzati grazie alla sua capacità di offrire un buon compromesso tra qualità e compressione. Viene utilizzato in molte applicazioni, dal video YouTube ai dischi Blu-ray e tutto il resto. Ora è uscito anche l'H265, che è il suo successore, offre una compressione superiore, riducendo quindi le dimensioni dei file fino al 50% rispetto all'H264, però mantiene la stessa qualità. Questo lo rende appunto ideale per tutti i contenuti ad alta risoluzione, come il 4K e l'8K, che devono per essere ancora snelli. Il ProRes è invece un codec sempre sviluppato da Apple, che è ampiamente utilizzato nell'industria cinematografica e televisiva per il montaggio e la postproduzione, perché offre una compressione di qualità molto alta con una minima perdita di dati. Questo è essenziale, questo codec, per tutti i lavori professionali dove c'è un workflow particolare. Abbiamo parlato, e potreste sentire parlare, di compressione. Ma che cos'è la compressione? La compressione è il processo attraverso il quale la quantità di dati necessari per rappresentare un video viene ridotta, senza compromettere eccessivamente la qualità visiva. Perché la compressione però è così importante? La compressione è fondamentale, perché la riduzione delle dimensioni del file ci permette di avere un file più agevole. Poi, soprattutto, sarà un file con un'alta velocità di trasmissione, pensiamo per esempio allo streaming o soltanto di inviarli. E soprattutto la compatibilità, sarà compatibile su più dispositivi. Ragazzi, il video finisce qui. Vi ricordo che questa lezione è un estratto di un videocorso molto più completo che abbiamo fatto, quindi nel link trovate i riferimenti per andarlo ad acquistare. Sono sempre molto interessanti i nostri corsi che vi aiutano proprio nel mondo lavorativo e in maniera pratica a poter approfondire la professione. In ogni caso, io vi ringrazio, vi invito ancora ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina, perché per noi è molto utile. Ciao ragazzi!